Sono Romano Amodeo, un epistemologista italiano, e affermo che la relatività generale è vero, e ho dato le mie ragioni. I affermo che, in peso, certamente abbiamo che tutto il peso di M, mass, è certamente dato anche da quella massa quando M è multipliata dalla unità del peso, il kg. Inoltre, nella energia, dobbiamo avere quella, tutta l'energia della massa elettromagnetica è certamente dato da quella massa quando M è multipliata dalla unità dell'energia elettromagnetica. Quindi, in E uguale MC2, questo C2 deve essere l'unità elettromagnetica. Ora, la questione è, possiamo ottenere questa unità elettromagnetica? Sì, possiamo. Ma ora, stopto di parlare, perché la mia pronuncia è orribile. è orribile. You can read. Grazie. 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 Grazie a tutti. elettrico o magnetico, perché questa è la quantità della massa in una sola direzione. La massa è in attenzione in una sola direzione. Grazie per la visione. Grazie. La section, la parte elettromagnetica del flore, elettrico, è la massa volumente. La massa volumente del flore, se il flore ha una velocità, questa velocità non è rappresentativa della massa volumente. La massa volumente del flore, ma solo della velocità, perché la massa volumente ha quantificato. La massa volumente del flore. La massa volumente è unitaria, perché in questo modo, tutti i numeri del flore volumente è il stesso numero in una sola direzione, quella del flore elettrico. della massa volumente del flore. La 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 massa volumente del flore. che sono, e aiutare le mie defeczioni.